Girgenti Acque, replica e ribatte. Al centro della vicenda il depuratore di Fontanella da Grigento e le sue esalazioni maleodoranti che creano non pochi disagi agli abitanti delle cooperative di via Caterina Ricci Gramitto. Si tratta di 150 famiglie che da circa un mese lamentano di essere costrette a vivere rinchiuso nelle proprie abitazioni per il rischio concreto di gravi epidemie. La causa era stata attribuita ad un guastallareatore, ma oggi l'amministratore delegato di Girgenti Acque, Carmelo Salamone, informa che questo è stato riparato. A causare gli odori sgradevoli percepiti dai residenti nella frazione di Fontanella a giudizio di Salamone, sono degli afflussi di liquami con caratteristiche difformi da quelle proprie del reflui di origine civile. E per meglio comprendere la situazione il rappresentante di Girgenti Acque si affida ad un'esposizione tecnica legata al processo depurativo che si compone, come precisa, di fanghi biologici attivi, microrganismi capaci di trasformare le sostanze nocive in non nocive. Questi microrganismi hanno una concentrazione di ossigeno che varia da 2 a 4 microgrammi per litro, con un pH da 5,5 a 8,5. Quando le acque reflue diverse raggiungono l'impianto di depurazione e prosegue, distruggono i microrganismi che invece lavorano in piena efficienza quando l'impianto è a regime. Nel caso specifico del depuratore di Fontanelli, gli scarichi anomali hanno causato il superamento dei limiti prescritti dalla legge per quanto riguarda gli scarichi in pubblica fognatura. Questa situazione, come è ovvio, sottolinea Salamone, compromette la capacità depurativa dell'impianto, ragion per cui Girgenti Acque fa presente che del disservizio aveva più volte informato il Comune di Agrigento, responsabile sulla vigilanza della qualità e conformità nei singoli scarichi fognari. La società in una nota al Comune fa presente che all'impianto di sollevamento refluio di contrada ai pitrarresi si sono verificati ingressi anomali che confluiscono poi nell'impianto di depurazione di Fontanelle. In questo modo sollecita il Comune ad effettuare accertamenti sul territorio per individuare l'origine delle illegittime emissioni nella rete fognaria.